Salve a tutti ragazzi, qui Nemesi da Znemesi e oggi farò un video tutorial richiesto da alcuni miei amici che vogliono imparare a utilizzare Fraps ma non sanno come si usa innanzitutto scaricate Fraps casomai metto il link in descrizione apritelo aspettiamo che si apra perchè stavo appena renderizzando un video, l'episodio 6 che caricherò entro oggi tralasciate che io ho la versione 3.2.9 voi avrete un'altra versione allora, tra queste tre opzioni voi spuntate questa qui, la seconda qui vabbè, qui mettete quello che volete aspetta che mi scrivono su Skype mettete quello che volete qui non metto niente e stop back after one second qui per dove vi deve spuntare i numeri per esempio quando, per esempio volete fare un video di Minecraft a sinistra, a alto sinistra vi spunteranno dei numeri che sono i numeri di Fraps che sinceramente non so che servono qui vabbè, scegliete la cartella o dove volete salvare i vostri video una volta fatti movies, io metto questo tasto qua perché questo serve per attivare il video la registrazione io metto questo perché di solito non lo utilizzo mai quando gioco metto 30 fps così mi va alla grande quando gioco su Minecraft qui faccio record sound detect best sound input in pratica, dato che noi facciamo video multiplayer questo qui registra sia la mia voce che la voce di chi sta con me su Skype per esempio dato che io utilizzo Skype per parlare qua mettete hide mouse aspettate che mi chiamano il telefono qua mettete hide mouse cursor in video screenshot qua ho lasciato tutto come era non ho fatto niente quindi chiudiamo quando fate un video ok vi va nella cartella questi sono gli episodi potete ben vedere che fa tanti video fa tanti video perché fraps ha un problema che divide video in pratica questi due file sono un solo video e fraps li divide ora andrò a spiegarvi come mettere come unirli e formare un solo video per caricarlo su youtube quindi andiamo su camstudio camstudio 7 io uso camtasia studio 7 per unire video facciamo file import media scegliete per esempio 1 e 2 questo è il primo lo spostiamo qua aspettate questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua quanto dura questo? 23 secondi ok non sono due video questi qua facciamo dopo di che aver fatto questo vedrete che ci sono 23 minuti cacciando questo aspettate sono solo non un secondo 23 minuti aggiungiamo questo e in tutto sono 3 minuti e 9 ok vabbè facciamo così ed è fatta sono tutte e due insieme ora facciamo file produce e share web io web di solito perché rimpicciolisce un po' il file quindi mi semplifica la vita per caricare su youtube avanti scrivete il nome qui dove andrà a finire il video una volta dopo aver fatto il rendering fine e inizia il rendering ok quindi questo era un video tutorial per come unire due file fraps in un solo video per poterlo caricare su youtube va bene il video finisce qui vi saluto vi ricordo di scrivervi e soprattutto mettete un mi piace e commentate in tanti grazie e alla prossima